e adesso direttamente per voi andremo a fare l'unboxing della gogador alla coca cola apriamo il package è molto ben fatto scusate un attimo dicevo molto ben fatto l'apertura è facilitata quindi adatto a grandi e piccini adesso andiamo a estrarre come vedete di gusto coca cola e questa cosa che non ho mai capito per cavolo penso di buona si piega guardate flessibile flessibilità massimo adesso prendiamo il telefono e andiamo a mangiare per voi guardate così ci mandano tutto in più in bocca alla prossima video l'icentio